Il cartello, allora, il DDL Zanna combatte l'omotransfobia, commette un reato che discrimina o esercita violenza per motivi fondati su sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Il cartello successivo prevede aggravanti per i crimini d'odio o discriminazioni contro omosessuali, bisessuali, transessuali, donne e disabili. L'articolo 4 difende il pluralismo delle idee, purché non idonea determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori e violenti. Sapete che c'è una larga discussione su questo, si è aperto un fronte molto polemico a destra, sappiamo bene che la Lega, Fratelli d'Italia, per esempio, sono drasticamente contrari. Se avessi aperto un fronte polemico in un'area liberale, diciamo, che tende comunque a vedere un rischio di riduzione della libertà di espressione... Sbagliando, sbagliando perché... Perché è così importante questa battaglia, Costantino? Allora, è molto importante per vari motivi. Innanzitutto, Galimberti racconta sempre che c'è una quantità gigantesca di suicidi tra adolescenti, di cui non parlano giustamente i telegiornali per paura di avere comportamenti imitativi in società. Ok? Questi sono giovani omosessuali vessati. Dopodiché, nella legge, ci sono anche le persone con disabilità. Io mi chiedo come facciano le simpaticissime persone della Lega a essere contrarie a una legge che tuteli e che dia delle aggravanti a chi compie delle violenze verso persone con disabilità. Queste leggi che tutelano, se possiamo chiamarle minoranze, ma non è una cosa orrenda, persone transgender, persone gay, eccetera, eccetera, ci sono in tutti i paesi europei, eccetto Italia, Polonia e Ungheria. C'è Cardi. Caro Costantino, rinnovo la simpatia, hai detto che i leghisti sono simpatici e anche tu sei molto simpatico, però tu prima mi hai detto di essere di sinistra e sei un gay di sinistra. No, 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 stavo per dire una cosa di sinistra. Ah, allora, perdono. Io sono per fare soldi e andarmene nell'ambiente della televisione. Ieri però parlavo con un amico che è capogruppo della Lega nel comune di Viareggio che è dichiaratamente gay, omosessuale e mi ha detto che questa legge, il DDL Zan, lui la contesta perché è portata avanti soprattutto dalle associazioni gay di sinistra perché è una legge che va a modificare l'impianto della legge Mancino creando un aggravante sui reati di opinione. Lui che è un gay di destra, scusa, 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 però voglio esprimere un concetto, abbi pazienza, questo è offensivo e sei anche passibile di querela perché voglio dire non è che mi puoi dire che io ho radicata nella mia cultura l'omofobia, è un'offesa grave questa. Non credo che mi puoi querelare per questo. Io penso di sì perché è una diffamazione e è una calunia. Potete evitare di intasare l'aula di tribunale insomma, visto le condizioni in cui siamo oggi. Il DBLTAN intasa le aule di tribunale perché io ma soprattutto lui che è omosessuale dichiarato domani magari in un comizio dicendo che è contro le adozioni omosessuali, pur essendo lui omosessuale, dicendo che è contro la pratica barbara dell'utero in affitto, potrebbe essere tacciato di aggravante. Perché non c'entra con la legge Cuzzocrea? Non c'entra nulla. Siamo Cuzzocrea, ragazzi uno per volta, uno per volta e parliamo tutti, tranquilli. La gestazione per altri è vietata in Italia. Quindi in questa legge non c'è alcuna apertura all'utero in affitto della gestazione per altri. Questa è una legge che semplicemente sancesce una cosa. Se tu fai un atto discriminatorio o se tu istighi a una discriminazione, se tu dici gli omosessuali devono essere bruciati in un forno o se tu dici gli omosessuali non possono entrare nelle scuole o se tu dici gli omosessuali transessuali non possono avere quel lavoro, tu sei passibile di denuncia. Punto. Non c'entra niente la gestazione per altri. È uno spauracchio tirato fuori dalla destra per far pensare che in questa legge ci sono cose che non ci sono per non farla passare. L'abbiamo già visto. È un film già visto. Io credo che sia giusto tutelare gli omosessuali. Purtroppo è un film già visto in Parlamento. Ma bisogna finire la violenza. Però ho tanti amici gay. È una cosa lecchia. È una cosa lecchia. Dile sempre la cosa. Io ho un amico gay che mi dice non è questo il punto. Non è che sei un amico gay, ho dei rappresentanti che rappresentano non gli omosessuali ma i cittadini. Ci sono persone anche omosessuali contari a questa legge. Allora facciamo solo...